Buongiorno, sono Alberto Pollastri, il direttore eventi dell'Antonio Carraro, un'azienda storica presente con produzione in Italia. Produciamo trattori, trattori per l'agricoltura specializzata, cioè tutta quell'agricoltura che è in ambito ortofrutticolo e vigneti. Produciamo in Italia da più di 100 anni e siamo distribuiti in quasi tutto il mondo. Siamo entusiasti della nostra presenza a questo evento Frecce Italian Accelerator, sperando di trovare nuovi stimoli per implementare e migliorare il nostro business in Francia, che attualmente è già molto importante, ma la nostra speranza è riuscire ovviamente a incrementarlo nei prossimi anni.